ma pure non è finito si si, vero problema eh, ci sono questi palazzi quanti sono? oppure là? marami dito, di te ho marami ma di là c'è il fuoco ma di là c'è il fuoco come è? come è giusto? lococter lococter e non sto perchè? ho 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 Sì, buono! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 4 4 2 1 1 1 ok ma mia non 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 67! Sì, siamo arrivati. Sì, è vero. se volano i ragazzi, ma si faranno meglio, meglio ragazzi ok e allora, qui è la ragazza è la ragazza la ragazza, la ragazza non ci sono non ci sono 2 ragazza non ci sono 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 70.000 Grazie a tutti. Grazie a tutti.